Nico, ti consiglio di saltare, perché questo Pokémon è molto pericoloso, eh! Ah, che paura! Ah, no! Ogni volta che salterai, usciranno i Pokémon! Siamo in tre stage diversi, e Nico, piano piano, salteremo più in alto, anche noi! Campioncini, benvenuti e bentornati! Nico, è una gara, vediamo chi trova più Pokémon leggendari! No, Galadella, è mio, 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 ehi, campione! Sfrutta questo momento, perché poi alla fine dovremo contare quanti Pokémon leggendari avremo alla fine, Ma soprattutto, piano piano, inizieremo a saltare sempre più in alto, caro buon Nico! Quindi sarà più difficile per noi catturare Pokémon leggendari, mio, tu! Uuuuh, molto bene, molto bene! Però adesso io sono a tre, in realtà, Nico, ti dirò, eh! Quindi sto proprio tranquillo! Ah, da come viene a rubarmi? Eh, beh, ho trovato una gara del Zapdos e mio, tu! Ma pure Zapdos! E certo, campione! E in più Zapdos era spawnato a fianco a te, quindi non so se era mio o tuo, caro buon Nico! Quindi non lo so proprio, però, beh, me lo sono rubato molto volentieri! Hai ritrovato qualcosa, per caso? No, non mi esce nulla, mi esce un Dragonite! Beh, è un bel Dragonite, io lo vedo, quello non è nulla, è il Pokémon più bello della storia dei Pokémon, Nico! È un po' diverso, eh! Però, ci sta, ci sta, ci sta, che a te non piaccia Dragonite, lo accetto, caro buon Nico! Comunque, un altro Zapdos! Ma dai, davvero? Sì, te lo giuro, quattro leggendari c'è, Nico, per adesso, tu quanti ne hai? E ne manco uno! Neanche uno? Neanche uno! Vabbè, ma perché è il salto questo qua, base, su, dai, ci può stare! Quando inizieremo a saltare tanto sarà pericoloso, ecco, in quel momento lì sarà veramente tanto pericoloso! Però vediamo! Adesso ho cercato in calocco, mi dispiace! No, 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 non vale, no, no, Nico, no, che poi crasha il mondo! Eh, non la volevo fare! No, dove sei che non ti blocco? Dove sei che ti blocco? Oddio, che casino qua! Eh, è un casino! Non ti vedo, non ti vedo! E lo riconosci subito, appena ti accorgi! No, ho visto un albero veramente pieno di Pokémon! L'ho visto! Non sono stato io! L'ho percepito, Nico! Eh, sì, eh, sì, vedo anche un Delmice che è bloccato sotto un albero, Nico, non va bene! Ah, guardalo! Guarda la tecnica loco, è ridicola! Ma non esce nulla! Però vedi, con la tecnica loco, la Pixamon già sa che tu non puoi ottenere Pokémon in questo mondo perché è un metodo illegale! Quindi a me ha regalato un Articuno, e non a te! Ma io zero, Nio, ma com'è possibile? Eh, sì, Nico, mi dispiace tanto, eh, mi dispiace veramente tanto, caro buon Nico! Probabilmente la tecnica è sbagliata, caro, non lo so, cioè, io ti ho insegnato come fare! Io ho riempito il mio box, d'avviso, ho riempito il mio box PC, quindi vuol dire che ho sei leggendari almeno! Però cofagrigus, 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 cofagrigus! Beh, quello, quello è il Pokémon perfetto di Marci, ricordiamolo, però purtroppo non è un leggendario, quindi ti va giusto un po' male questa cosa qua! Allora, mi ammazzo tutti! Allora, ammazza! E io secondo me, guarda, guarda, ne escono nei prossimi dieci, mi esce un leggendario! Ecco, vedi, neanche nei prossimi dieci, è al primo! Probabilmente la tecnica è ammazzare tutti, perché rifresci un po' tutto quanto, almeno tieni un leggendario! Però, sai, secondo me non è proprio bello da fare ogni volta, però, beh, come vuoi, eh! Io... Mi fa molto piacere, mi fa tanto! Oh, sono usciti due Samurot simultaneamente a me e a te! Uno a fianco all'altro pure, guarda, sono a migliori amici, eh! Mi serve un leggendario, glielo puoi dire! Non credo che loro possano fare qualcosa all'interno di questo codice, però... Oh, Nico? Ah, ha aumentato anche la velocità, la forza del salto, non la velocità del salto! No, l'ha rallentata la velocità, qui non posso far male! Non so se hai capito, ma anche i Pokémon saltano di più! Cioè, se tu guardi i Pokémon saltano... Oh! No, dai, ora è mio! Lontano! Sì! Si! No, sappi che guarda la denuncia! Beh, ma l'ho fatto perché saltando più in alto ho avuto più traiettoria per catturarlo! Vediamo! Slash denuncia, non ha funzionato! E quello che ha funzionato è il fatto che io ho trovato Rayquaza, anzi, tu l'hai trovato! E io l'ho ottenuto! E tu hai una squadra intera, io non solo uno, ma anche la pietà di lasciarlo! No, perché c'è anche Mewtwo qua, sai, quindi l'ho voluto prendere per te, Nico, perché poi magari te lo regalo dopo! Quindi lo faccio solo per te, caro buon Nico! Solo, unicamente per te! Io credo di aver trovato comunque otto leggendari in questa prima sfida! Vediamo un attimino qua se ci manca ancora del tempo! Il fatto che i Pokémon saltino tanto in alto quanto noi è fighissimo! Ho un po' paura per dopo, in realtà, però, vabbè, lo scopriremo solamente vivendo! Alexa, quanto manca alla fine del timer? Vedi? Io chiedo sempre alla fine! Alexa, stop! Hai trovato un leggendario alla fine? Non è neanche un leggendario, però... Ti è andata bene, ti è andata bene! Allora, in realtà, caro buon Nico, facendo un conteggio generale di Pokémon che ho trovato, io ne ho trovati ben sette leggendari al livello dieci! Tu invece quanti ne hai trovati? Posso dirti anche quali, se vuoi, perché sono due! Ah! Ho trovato un Walking Wake e uno Zapdos! E anche una cosa che mi ha stato rubato! Io un Walking Wake non l'ho trovato, quindi comunque ci sta! Allora, siamo quindi sette a due! Non male come inizio! Oh, se me ne rubi un altro... Non te ne rubo un altro, Nico! Non ti parlo della prossima settimana! Dai, su, guarda qua, stai tranquillo, non ti rubo più nulla, promessa! Adesso però... Uh! Sì! Vieni qua, ok? Cernia! No, 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 no! Guarda! Oh, che bello executor! Però non è il tuo preferito di Alola, quindi... No, non è quello enorme! Non è, non è quello enorme! Ma saltiamo ancora più di primo, mi sbaglio! Non lo so, io voglio leggendario! Questa piccola percezione! Uh, Caolic si fa toglie un infarto, eh! Vediamo però a cosa esce! C'abbiamo dei Pokémon un po' inutili in questo momento e il quinto Electabase è uscito! Poi abbiamo un Delphox che è molto interessante, che tu, se non mi sbaglio, hai nella serie principale... Oh, sono... Vabbè, dai, te lo concedo, te lo concedo, te lo concedo e non te lo... Te lo concedi! Te lo concedo e non te lo rubo, guarda! Solo perché sei te, eh! Perché voglio che prima o poi mi raggiungi! Perché sai, Nico, qua, sembra una gara per adesso a senso unico! Io ho otto legionari, tu tre, contando anche questo round! Però abbiamo anche il terzo, che però aumenterà ancora di più il salto! Quindi voglio vedere quanto sarà difficile per catturare Pokémon, anche se loro salteranno come dei matti! Vediamo però! Ti ne hai trovati di questo colore? Allora, livello 50, Shiny, secondo round, uno soltanto, Cernias! Tu? Ne ho tre! Ne hai tre! Vedi che già il cambecchino arriva! Ma come tre, scusa? Quando è che ne hai trovati tre, Nico? Eh, quasi, c'è Zappados! Zappados hai trovato anche? Zappados! Vabbè, ma vabbè, io, ragazzi, qua sta ribaltando la situazione, a me non piace questo ribaltamento di situazioni! Non lo accetto, non lo voglio, non lo contempo! Oh! Oh! È più alto o erro? Oh, saltiamo ancora più in alto! È problematica, perché vedo tanti Pokémon saltare troppo! Vabbè, quello è normale! Guardate! Che figata! Vabbè, eh, sono fatti così loro, che devi fare? A Kangaskank è un canguro, non salta, vabbè, ci sta! Eh, d'altronde, eh, vabbè, accetto! Però vediamo, vediamo se lo riusciamo a trovare! È un po' più difficile, perché in questo modo sporano meno leggendari, sei noti, Nico! Anzi, meno Pokémon in generale, perché stiamo più tempo in aria! Però, però, il fatto che saltano, poi si fanno notare, vuol dire che posso rubarteli più in fretta, magari! Il fatto che però non sporano leggendari, Nico! Eh, non puoi metterli sotto un albero! Non puoi utilizzare la tecnica locua, eh! Beh, un albero alto, eh, guarda! Vedi, alto 3, quindi... Ah, quindi tu dai la scusa che comunque salti un po' in alto, giusto? Sì, sì, sì! Non lo so, Nico, cioè, mi pare un po' un cheat, ma è questo! Però, oh, se tu, se tu lo accetti... Cosa? No, non è uscito niente, non vi ho uscito niente! Io non... Nico, non sto trovando niente, te lo giuro, cioè, non ho... No, no, sono lontano da te! Dov'è anche te, sto Zap? No, Nico, allora... Quattro ne hai trovati, eh, di leggendari tu! Io uno! Non ribaltiamo la situazione, perché siamo 8-5 in questo momento, in questo modo, eh! Vabbè, ho visto... Non so che ho visto... Tecnica loco! No, niente! Tecnica loco, ragazzi, vediamo in tecnica loco! Tecnica loco inutile! Riproviamo, riproviamo! Io credo che loco è inutile? Tecnica loco è inutile, eh! Tecnica loco 0 di 0! Eh, Weylord, a te pareva che occupava mezza zona! Allora, di qua nulla! Io sappi che veramente sono... Alexa, stop! Trovato Rayquaza sulla fine del counter, giuro! Giuro, 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 giuro! Alexa, stop! Andiamo a contare, Nico, perché qua la situazione è bella problematica! Io ho trovato solamente due leggendari al livello 50! Quindi io vado a nove! Tu invece... Io vado a sei perché ne ho trovati quattro! Oh! Ribaltone di Nico! Molto bene! Anzi, in realtà molto male! Nico, livello 100, il più importante! Io non voglio che fai il ribaltone, ovviamente! Cioè, sai, mi farebbe piacere! Ma anche no, caro buon Nico! Sappi che però, guarda quanto è difficile adesso! Saltiamo in altissimo! Sporano pochi... Poi, Paul, dov'è? Non so se si chiami poi, poi, quello! Aspetta! Ci ho provato, ci ho provato! Ho visto una master ball cadere dal cielo! Ci ho provato! No, non era mia! Non era mia! Non era mia! Non era mia! Non era mia, Nico, te lo giuro! Però, vediamo se... Di qua, magari, io mi tocca fare le locate, perché ho paura che tu mi raggiungi, eh! Vediamo! Mi piazzo qua sotto e provo! Ci provo ad andare di locata! Però, no! Solo Scyther! Un Gengar? Nulla! Devo starti vicino, Nico! Devo stare vicino a te, perché... Devo stare proprio... No, no, no! Milioni di blocchi! No, guarda, sono qua! Sono qua a fianco a te, io, Nico, guarda! Sono pronto a rubacchiare ogni singola cosa che puoi trovare, eh! Pronto, prontissimo, anche! Però noto che c'hai la difficoltà! Percepisco, eh! Non è il periodo! No, ma più che altro è più difficile, perché saltando più in fretta, ragazzi, perché fai, appunto, meno, come si può dire, meno spazio di lancio, hai più possibilità di spawnare Pokémon, di conseguenza così diminuisci la possibilità di spawnare Pokémon e quindi hai meno probabilità di trovare Pokémon leggendari. Qui ci sposta, ci sposta... Oh, attenzione! Ho visto un... Qualcosa? No, 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 no! Sì che c'è qualcosa! Sì che c'è qualcosa! C'è proprio lui! Che hai lasciato indietro, Nico! Io? Articunos! Oh! Guarda i Pokémon! Anche i Pokémon! Guardali! Quello Mewtwo è come lo prendo, da! Dai, salta come un passo! L'ha visto il grillo! Saltami tu! No, dai, l'hai preso! Dannazione! Il grillo Mewtwo è preso! Però, vediamo... No, è ingestibile! Così è un po'... Io non riesco di poterlo fare! Così è un po' difficile, Nico, in effetti, eh! Ho preso un hitmo lì al 100 quando? Vabbè! Ok, io per ora ho preso comunque un solo leggendario, Nico, non so te! Ma il fatto... Purtroppo! ...è che se non è un vero leggendario, i Pokémon quando cadono a terra dal saltone muoiono! Quindi è un problema anche quello! Però, vabbè... Oddio, è vero! Eh sì, perché prendono un nano da caduta, a meno che magari sono anche dei Pokémon volanti! Però, vabbè, continuiamo questa... Come puoi dire... È come se avessimo un trampolino! Oh, sì! Ti siete mai andati sul trampolino, ragazzi? È un po' questo! Però, io non vedo leggendari! Vediamo, magari rimanendo qua un po' a terra... No, mi tocca utilizzare una locata! Un'altra devo fare... No, 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 no! Hai detto no, eh? Eh no, devo farla! Devo fare... E io mi chivo sei leggendario, allora? No, 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 no! Due vanno bene! No, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi! Però, è un po' un momento di difficoltà per The Mark, Nico! Lei capisce che, comunque, c'è della difficoltà! Sei comunque in vantaggio! Sono io che devo dire... No, no, no! Sei te in vantaggio in questo momento! Quanti ne hai di leggendari, ora, campione? Non lo so! Ne ho trovati solo due... Eh, io uno! Eh, quanti?! Eh, vabbè, siamo... Pari, mi sa! No, mi sa che siamo pari! No, ragazzi... Non ricordo quanti ne avessi! Smette di saltare! Nico mi raggiunge! Nico mi raggiunge, palese! Io non ho trovato un leggendario che sia uno che saldi! Uno! Non lo trovo! Non lo trovo e non lo troverò mai! Questo cos'è, eh? Cos'è sta roba? Ah, no! Io ti consiglio di usare un po' anche l'alberello, eh! L'alberello? Tecnica loco? Eh, diciamo che sì! Ci sta, ci sta! Aspetta che mi piazzo qua sotto! Allora, vediamo se con la tecnica loco magari trovo qualcosina! Perché qua, ragazzi, è un momento di magra! È un periodo di magra dove non troviamo nulla! Però mi sa di aver visto... Mi sa... No, non è il momento! Sembra che sembrava un re quasa, va bene? No, aspetta, aspetta, aspetta! L'ho visto, l'ho percepito da qualche parte, eh! Sì, c'è, c'è! Io non capisco neanche dove tu sia perché vedo robe saltare ovunque! L'ho visto! No, però, ragazzi, c'è un waylor che veramente mi occupa mezza scena! Cioè, non lo so! Io avevo visto un walking wake da qualche parte! Eh, però... Miu tu di nuovo! Eh, ragazzi, Nico vince! Nicola vince! A meno che con questa locata che sto facendo ora sblocco qualcosa di veramente importante! Però... Nico la vince! Nico la vinta, ragazzi! Alexa, stop! Pesante! Pesante situazione, ragazzi! Perché Nico... Oh, cacchio! All'ultimo... Alla fine, praticamente, stiamo volando troppo! Ok! Nico, a dire la verità... Atterri pure nella zona PC! A lei è andata molto bene, secondo me! Perché io in tutto ho 10 Pokémon! Anche io ne ho 10! Davvero? Ah, allora, Nico, facciamo così! Seleziono due Pokémon al 50, perché io ne ho solo uno al 100! E facciamo una battaglia finale per decidere chi vincerà questa sfida a questo punto! Ce l'hai già? Vuoi modificare le mosse o le le ho così? No, 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 così! Naturali! Natural, voglio! Natural! Vediamo! Vai, ho citato il campione! Ok, allora... Faccio subito una mossa, io, Nico! Io non so quali... Faccio un danno, boh! Urca, tu hai fatto un sacco di danno! Ma io un po' di più, eh! Se tu non fai un critico... Ma tu guarda... Te lo faccio io! Vai! Eccoci qua! Eh, va bene! Extreme speed! La tua era più veloce! Eh, ci sta! Hai l'hai fatta anche tu? Sì, l'ho fatta anche io! Devo ammettere, l'ho fatta anche io! Perché c'è questo cervo? Eh, era l'unico che era a livello 50, Nico! Io c'ho attorno tutti quanti Pokémon che sbarzano via! Io però devo usare solo extra rapidi! Eh, vincite, Nico! Non è vero! Attenzione! A meno che non faccio un bel brutto colpino! Attenzione! Un piccolo brutto colpo! Attenzione! De Mark! Ragazzi! Vince la sfida! Noi, campioncini, ci possiamo fermare qua! Spero che questo video vi sia piaciuto! Ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Ciao!